A deboli è morto il pensionato investito dal nipote davanti all'ospedale. L'anziano di 72 anni era ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cittadino. Dopo l'incidente avuto col nipote il pensionato era stato accompagnato al pronto soccorso dove gli era stata riscontrata una frattura del femore. Da qui la decisione di ricoverare il paziente in ortopedia. Dopo poche ore, 72enne di Montecolvino Rovella era stato trasferito in sala operatoria per risolvere la frattura del femore. Mercoledì notte purtroppo il pensionato è deceduto per un arresto cardiaco. L'anziano si recava spesso all'ospedale deboli per alcune sedute di dialisi. Martedì mattina uscito dall'ospedale il pensionato sembra che avesse chiamato il nipote per essere riaccompagnato a casa. Il nipote è arrivato a bordo di un furgone ed avrebbe investito il nonnino in retromarcia. Non si sarebbe accorto del pensionato. L'urto non è sembrato qualcosa di grave. Quello che sembrava un banale incidente ha avuto un epilogo drammatico. La salma ieri mattina è stata trasferita alla sala del comiato a Bellizzi in attesa della cerimonia funebre. Un sinistro senza precedenti, quello di martedì scorso con il decesso della 72enne. L'operazione era riuscita, non ci sono state complicazioni. Ma probabilmente poi l'arresto cardiaco improvviso ed imprevedibile ha provocato la morte dell'anziano che ha lasciato increduli anche il personale medico e paramedico dell'ospedale.